Si arricchisce l'offerta di Trenitalia per la Calabria. Questa mattina nell'Aula Commissioni del Consiglio regionale sono stati presentati nuovi collegamenti da e per Roma Termini. La nuova coppia di treni sarà inaugurata con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale il prossimo 10 dicembre. Si tratta di nuovi collegamenti giornalieri veloci con frecce argento che consentiranno di spostarsi tra la Calabria e la capitale in meno di 5 ore. Un treno partirà da Roma Termini alle 7.22 ed arriverà a Reggio Calabria alle 12.15. Il secondo partirà dalla città dello Stretto alle 16.08 per arrivare a Roma alle 21. Fermate previste in Calabria, Villa San Giovanni, Rosarno, La Mezzia Terme e Paola. In contemporanea sarà anche lanciato il nuovo servizio Freccia Link che permetterà di collegare più agevolmente La Mezzia Terme e Catanzaro tramite un bus in orari utili per le fermate delle frecce. La Regione ha aperto un confronto con il Ministero dei Trasporti, con Trenitalia. Abbiamo prima ottenuto il risultato di evitare l'entratura della freccia d'argento nella stazione di Napoli guadagnando mezz'ora. Abbiamo una seconda coppia servendo in modo più razionale, più rispondente ai bisogni della nostra Regione. È un servizio che Trenitalia fa a mercato, quindi risponde a una bellissima esperienza che è nata l'anno scorso con una prima coppia di frecce argento che è nata in collegamento tra Roma e la Calabria, fino a Reggio Calabria. Questa esperienza assolutamente positiva ha incoraggiato Trenitalia a sfidare ulteriormente il mercato, quindi con una nuova coppia di treni frecce argento completamento dell'offerta che nasce andando a cogliere, questo è l'obiettivo e l'auspicio, le esigenze di mobilità di lunga percorrenza della Calabria. Consolato Minniti per la CNews24